ben ritrovati ben ritrovati su in genere horror io sono sempre greg arriva finalmente anche in italia satanic hispanic è un film delle 2022 che possiamo vedere sul canale streaming midnight factory channel è un film a episodi produzione americana ma in realtà poi è diretto da cinque registi sudamericani per cinque diversi episodi il primo fa un po da introduzione da collante e da chiusura la collante di tutta la vicenda da chiusura poi della vicenda stessa e sono tutti caratterizzati da una storia principalmente incentrata su vampiri ma che inizia con un'introduzione dove dove sostanzialmente il primo episodio dove abbiamo una un'irruzione da parte della polizia in un ambiente in una istanza in un appartamento dove è avvenuto un massacro ci sono corpi smembrati un unico sopravvissuto un ispanico appunto che viene interrogato viene messo sotto torchio da un poliziotto ed una poliziotta lui comincerà a raccontare cose intanto dovrà subito difendersi perché l'accusato numero uno comincerà a raccontare storie molto fantastiche legate appunto ad episodi vampireschi racconta di avere un'età molto avanzata e incredibile visto il suo aspetto giovanile e insomma cerca di avvisare avvertire che in quella centrale di polizia è meglio fare in fretta perché è anche inseguito da una forza misteriosa terrificante che farà fuori farà fuori tutti questa è un po la la vicenda in sintesi poi c'è però molto da dire intanto principalmente il film è ambientato in a il paso città del texas quindi siamo ai confini con il messico la centralità della vicenda della della degli protagonisti ispanici del confine e quindi tutti gli episodi che sono caratterizzati da stili completamente diversi perché i cinque registi ci hanno messo del lo stile ovviamente il proprio ognuno il proprio stile però sono tutti incentrati su quello che è il concetto di confine l'attraversamento del confine lasciare la vecchia casa per la nuova il legame con la vecchia casa il legame con la nuova realtà le origini l'eterogenità delle proprie origini nel senso che ispanico si identifica i latini tutti quindi tutti i paesi del sud america ma lì si va dal messico in giù ce ne sono di tanti di diversi la diversificazione è un elemento importante che viene sottolineato in questo film uno dei tantissimi elementi si parte appunto dal concetto che l'etichetta ispanico significa essere il sospettato numero uno se ci sono delle situazioni omicidi ruberie cose di questo tipo quindi bisogna difendersi a prescindere perché poi sarà l'ispanico sarà l'indiziato numero numero uno c'è poi la diffidenza tra le persone e il fatto che invece bisognerebbe ascoltarsi ascoltare perché appunto il fatto che il nostro protagonista vada a raccontare cose fantasiose sui vampiri destabilizza e lo rende non credibile agli occhi dei poliziotti che però questo il tutto fa risaltare quello che sarebbe invece importante ascoltare proprio i poliziotti dovrebbero ascoltare anche se la storia sembra fantasiosa è chiaro che qui è esasperato perché la storia fantasy è horror però è sintomatica anche la la critica l'aspa critica contro episodi che hanno visto protagonisti negativo la polizia in america e situazioni di insomma di sparatorie e sparatorie non necessarie e giustizia e sostanzialmente delle condanne sommarie e senza processo quindi c'è anche questo tipo di tema che tra l'altro già a fine a inizio film lo vediamo perché i poliziotti quando rompono in queste in questo appartamento non fanno altro che sparare sparano sparano anche se non serve più perché sparano comunque vedrete la scena e sembra sembra comica lì per lì però in realtà fa pensare molto perché quella prima cosa che fanno è sparare l'impazzata a raffiche senza senza senso si parla essendo un film centrato sui vampiri beh c'è il concetto anche del sangue il sangue come nutrimento ma il sangue anche legato a un senso di appartenenza alla popolazione le tradizioni alla storia alle origini popolazione storie origini che viene tra i vari episodi in maniera diversa viene tratteggiato perché perché si parla di tradizioni che sono diverse le une dalle altre ispanico non significa un unico paese un unico stato unica tradizione e comunque l'eterogenità è una cosa fondamentale che deve essere presa in considerazione e viene portato avanti dall'eterogenità dello stile degli stessi episodi c'è quello spaventoso e bizzarro c'è quello terrorizzante c'è quello ironico comico e romantico c'è quello che affonda maggiormente su un aspetto più brutale più sporco che però facendo vedere il sangue fa vedere le origini parla delle origini insomma stili diversi terogenità come stili di terogenità sono le caratteristiche degli esseri umani che sono tutti uguali ma al tempo stesso diversi cioè uguali e diversi perché devono esserci le diversità di carattere di comportamenti di origini di tradizioni in un'unità in una unica è un unico modo di vivere che deve essere basato ovviamente sul rispetto di tutti l'uguaglianza di tutti insomma emblematico il fatto che un ispanico si trovi davanti in un interrogatorio un poliziotto di etnia bianca un altro di etnia afro e la poliziotto di etnia afroamericana e loro americani perché il documento dice che sono americani che diffidano di questo di questo ispanico senza documenti non si sa da dove viene tra l'altro comunque la sua storia è veramente difficile da credere però è questo il concetto una storia difficile da credere perché parla di vampiri perché lui non si sa quanta che effettivamente che età abbia perché sembra avere veramente tantissimi anni e non è credibile il tutto e al tempo stesso però il fatto che bisogna ascoltarlo il fatto che quello che dice deve e può avere un significato un significato ce l'ha perché a un certo punto la diversità la diffidenza il fatto di individuare in lui il sospettato numero uno deve invece mettere in guardia i poliziotti perché il pericolo vero arriverà perché è una minaccia che questo sospettato sotto sotto interrogatorio ha già dichiarato arriverà una minaccia terribile che farà fuori tutti e quindi è meglio fare fronte comune perché solo facendo fronte comune solo ascoltandosi sono parlando delle proprie diversità solo capendosi al di là di quelle che possono essere i problemi legati alla comprensione all'inizio si parla anche della comprensione delle lingue questo personaggio parla diverse lingue alla fine sembra che possa parlare solo spagnolo perché ispanico anche altro luogo comune e alla fine parla inglese tra l'altro il concetto della lingua il concetto della diversità il concetto della parlare in maniera diversa beh el paso non è una città scelta a caso quella sul confine messicano una città dove il 40 per cento della popolazione parla spagnolo si parla veramente di tanti argomenti tutti molto importanti denunce sociali e uguaglianza tra persone nella loro diversità questo un po il fulcro del discorso soprattutto incentrato sugli ispanici perché questo è un film che visto il titolo parla di loro nello specifico però deve parlare di tutte quelle che sono le diversità all'interno di un paese come gli stati uniti che di diversità ne ha tantissime e deve anche cercare di capire come tutti possano vivere in in armonia senza appunto l'utilizzo della della forza della violenza come nel caso l'episodio della polizia o comunque senza che vengano etichettati ci siano queste etichette questi e queste diversità basate sui sui pregiudizi e lo il film lo fa con episodi che dicevo diversi nello stile quindi lo fa sia affrontando l'aspetto comico ironico grottesco sia l'aspetto terrificante e pauroso l'aspetto sporco e horror puro con il sangue che scorre con le gole strappate insomma c'è di tutto c'è veramente di tutto per divertirsi come horror a sé stante come divertimento intrattenimento ma anche per riuscire a pensare a degli argomenti che vengono trattati in maniera intelligente in maniera ficcante e profonda ce ne sono tanti di argomenti spero di appunto di averli detti tutti ditemi se il film lo avete già visto è altrimenti da guardare assolutamente perché ripeto ben scritto ben diretto con dei colpi di scena ben assestati con delle dinamiche sempre efficaci e differenti episodio su episodio anche i trucchi il comparto horror funziona devo dire insomma averne di questi di questi film fino ad episodi che è difficile fare concettualmente ma questo secondo me è centrato ed efficace in tutto e per tutto e come al solito mettete il mi piace condividete il video fate quello che vi va di fare per sostenere il canale perché a me fa sempre piacere iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci sentiamo alla prossima